Stefania Orlando, infortunio prima di tale e quale show, speriamo bene Tale e quale show, Stefania Orlando racconta, mi sono svegliata con il colpo della strega Nemmeno il mal di schiena è riuscito a fermare Stefania Orlando La showgirl è pronta per la sesta puntata di tale e quale show che andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai Il talent condotto da Carlo Conti continua a riscontrare un successo dopo l'altro Anche grazie ai suoi protagonisti e tra questi spicca proprio Stefania Orlando che stasera sarà Cher Dopo Lady Gaga, Mina, Rettore, Anna Oxa e Dabbie Harry, Stefania Orlando vestirà i panni della cantante statunitense Proprio ieri però, prima di quella che la conduttrice definisce, la giornata della morte, per via delle prove Ha raccontato su Instagram stories di essersi leggermente infortunata Oggi giornata della morte, finiremo tardissimo Oltretutto mi sono svegliata lievemente con il colpo della strega Stefania Orlando dopo il colpo della strega, ho preso un antidolorifico, speriamo bene Mi sono anche presa un antidolorifico, speriamo bene È proseguito così lo sfogo di Stefania Orlando che ha raccontato la sua disavventura, ma si è detta pronta per le prove generali La conduttrice è apparsa subito in ottima forma e si è ripresa velocemente dal piccolo infortunio Stefania Orlando come di consueto ha mostrato ai suoi followers i preparativi prima delle prove generali di tale e quale show con la fase del trucco Senza però mostrare il suo viso da share, usando degli appositi filtri Tale e quale show, Stefania Orlando frena sui social, non posso svelarlo Sempre attivissima sui social, pronta a rendere partecipi i suoi numerosissimi followers della sua vita Stefania Orlando, che è in attesa di una sfida ardua, ha mostrato da lontano l'abito che indosserà stasera a tale e quale show Metto a posto l'abito per domani sera, perché l'ho già portato Non ve lo posso far vedere più di tanto Queste le parole della conduttrice che ha lasciato intravedere però un vestito lungo rosso, pieno di paillette, con il quale farà di sicuro faville stasera Grazie a tutti